Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori rallentamenti in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e in direzione Mare tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. E per lavori in direzione Mare ci sono code tra Empoli Ovest e San Miniato. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!